Allora Pierlu, sento l'esigenza di parlarti di tre donne degli anni 80, va bene, tre donne degli anni 80 e poi tendenzialmente potremmo anche dire sono sparite, cioè hanno fatto dei brani che sono diventati degli incredibili successi, motivo per cui noi le conosciamo, ma devo dire che in realtà hanno dietro una storia enorme, fatta di milioni di dischi venduti, però noi le conosciamo solo per una canzoncina piuttosto che due. Prima di tutto in assoluto ti devo parlare di una che è veramente fuori di testa, che più di testa non si può, però nella sua particolarità, se tu la vai a rivedere adesso, è molto attuale, quindi a quei tempi era veramente avanti. Nina Hagen, questa donna tedesca, assolutamente tedesco e cantava in una lingua incomprensibile che era un po' un tedesco un po' slengato diciamo alla Celentano Prising Call in Essin e Inciuso, una roba di questo tipo qua. Il pezzo di Nina Hagen, più bello in assoluto, si chiamava African Reggae. Quando con Stefano Ferini eravamo al Manila, che poi si chiamava Manila in The Jungle, dove si suonava solo musica afro-cubana, che adesso che sono stata a Cuba, posso dirti, è di cubano, in quella musica lì non c'era nulla, però di afro dal punto di vista delle percussioni sì, Nina Hagen con African Reggae era uno di quei pezzi che noi suonavamo regolarmente il sabato sera. Risentirlo ora mi sembra impossibile, ma è la verità. Sempre tedesca, Pierlu, come se non bastasse, c'era un'altra che si chiamava Nena. E quella che sicuramente noi tutti ci ricordiamo per una canzone molto bellina, 99 Luftballons, 99 palloncini rossi. Ed era questa canzone, come era? Ed è il motivo per cui noi ci ricordiamo di questa cantante. Però lei ha fatto veramente delle cose incredibili. Diciamo la carriera di Nena si sintetizza in questa situazione qua. 22 milioni di dischi venduti, 28 album fatti nella propria carriera, e sono tantissimi perché ogni album sono 7, 8, 10 tracce. Sia per i numeri, sia per la popolarità che ha in Germania e al di fuori della Germania e in tutto il resto del mondo, Nena è la cantante tedesca più famosa di sempre. Ce n'è un'altra, eh, attenzione, 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 Pierlu, perché qui veramente mi si tocca, mi si tocca proprio il punto, il punto G, va bene? No, il mio, un punto G musicale. Kim Wilde, questa bella donna inglese, veramente bella, con questa voce. Ha fatto anche lei veramente dei successi stratosferici. Ha venduto 60 milioni di dischi, come se ogni italiano ne avesse uno. Tra l'81 e il 93 ha avuto 26 hit nelle classifiche britanniche. Cioè, ragazzi, e non si sta mica scherzando qui, cioè si sta parlando di cavalli da corsa ma di razza. Quello che ricordo di più, perché radiofonicamente l'ho passato 100 miliardi di volte, era You Came. Quindi queste tre donne hanno fatto il botto, perché se fai la somma di tutti i premi, di tutti i dischi venduti, di tutte le cose fatte, insomma, in tre hanno fatto un gran lavorone. Ciao, Pierlu.